San Goffredo, vescovo di Amiens, fu un pacificatore e riformatore devoto che dedicò la sua vita a diffondere la pace di Dio nella sua diocesi. Anche se costantemente affrontò sfide e ostacoli, la sua integrità, il suo rifiuto alle offerte mondane e il suo sostegno al popolo contro i feudatari lo resero un esempio di giustizia e devozione. Possiamo chiedere al Santo la pace seguendo il suo esempio, la resistenza alle influenze mondane, rifiutando compromessi che possono portare a ledere la fede e l'integrità spirituale. Possiamo chiedere riconciliazione e protezione per noi e per le nostre famiglie. San Goffredo, concedi a noi tutti che recitiamo qui oggi questa preghiera la grazia di essere sostenitori della giustizia e della dignità umana come lo fosti tu. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. Un grazie dal profondo del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allontana da noi, o Signore, ogni male dell'anima e del corpo per intercessione di San Goffredo, perché, lontani dalle insidie del maligno, nella serenità e nella pace, possiamo sempre lodare con gioia il tuo nome e il tuo onnipotente amore di Padre. Amen. Se ti chiami Goffredo, tantissimi auguri e che Dio vi benedica tutti. Ciao e a presto. Grazie. 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 Grazie.